Quando erano ammazzati, erano gli uccelletti e mi diceva come vogliono ammazzare? E' una scherzetta così. E' una scherzetta così. E' una scherzetta, no? Alla questa è la base, questa è la terra. Qua si mette un lato così dritto. E qua c'è uno che va per essere scattato da giù. Due, c'è una zeppa che va giù. Rego due giù sotto. I zeppi sono tre. Più quello giù a piedi che pondella. Allora ne va, se tu c'è il lito, non ne può fare meglio di non troppare. Ho capito. E' una scherzetta così. Almeno 21 anni fa, allora gli vintiardi e lave luce. E' una scherzetta. E' una scherzetta, io ne ho fatto due scherzetta. E' una scherzetta che gli aveva spiegato per 72 stoni. E' una scherzetta. E' una scherzetta. E' una scherzetta di 50-130. E' una scherzetta che stavo regalando. Ma, ma, ma. Un scherzetta. Sono tutte le zeppette fine, no? C'erano. Ci stavo con il suo disco chiamato. I materali rimane a l'uomo. Non si attaccava, capito? Questo era un miscatale. E' una scherzetta di estate, ma hanno fatto un miscatale. quando la beve la per settembre così, la uscì da un'altra parte, e la vedi un po' più stupida, e la vedi un po' più vecchia, e li giappavano, e la bruciava, ma rimartì su una cazza che non mi piaceva, perché a me mi piaceva più scherzato, e dopo è così, mi piaceva rosso, mi laggio su un uomo. Stavano gli sturni sottosti. E' duro! Gli animali migratori che venivano dall'acqua russa, e poi quando siamo a fine marzo, aprile, era marzo, era cosa? Chi ha parlato? L'acqua me è di novembre, cominciò a preparare queste schiazzette, e chi ha parlato? Noi andando, perché quando si era fatto una volta la schiazzetta, non la buttava, ci stava vicino alla piazza, in una piazza. E lo sasso, non mangiava le formiglie, capito? E poi ce ne mangiavano, e poi c'è un leve dopo, c'è un gelittino, c'è un bagno dei fucili, tutti i cacciatori, ma a me non mi è mai piaciuto, io vedevo dove passava, quando raffidava Prattano, ecco ci passano gli animali, e ti guardava vedere se ero vinto da orpi o cosa cos'era, se ero orpi, se ero orpi. o se ero orpi, o se ero orpi, o se ero orpi, o se ero orpi, o se ero orpi. E' buona! E' una cosa nuova, ma coniglio pure è buono. Coniglio. Coniglio. Eh, coniglio è buono.